Ancora sbarchi fantasma in Sicilia, circa 100 migranti sono giunti su due diverse imbarcazioni nell'Agrigentino e a Lampedusa. I 48 migranti arrivati sull'isola hanno raccontato che alcuni dei propri compagni sono morti in mare durante la traversata. Giovanna Cucè. Sono arrivati fino alle coste affollate di turisti con questo barchino sotto il sole di mezzogiorno. A Lampedusa è ormai routine, li chiamano sbarchi fantasma e ogni settimana si chiude con il suo bilancio. Stavolta erano in 48 a bordo, partiti dalla Libia, Costa d'Avorio, Mali e Tunisia i paesi di origine. Più della metà donne, tre incinte, sei bambini, ma ce n'erano altri. Una donna ci ha raccontato della morte di suo fratello che aveva appena 5 mesi. Un altro ragazzo di 30 anni sarebbe caduto fuori bordo durante la traversata. Noi li abbiamo accolti come potevamo. L'ennesima tragedia nel Mediterraneo l'hanno raccontata i sopravvissuti e i volontari delle chiese evangeliche. Due giorni trascorsi in mare, senza acqua da bere, non si sa ancora quanti siano esattamente i morti. Quelli che ce l'hanno fatta hanno toccato terra in condizioni devastanti. Molti di loro erano disidratati, altri con gravi problemi di respirazione a causa dei fumi di scarico del motore. Sulla banchina sono arrivati i medici con flebo e ossigeno, mentre i volontari si occupavano dei bambini, nudi sul molo, sorridevano nonostante tutto. Grazie. Grazie.